Gloria al Signore. Ripeto, Libro di Genesi, capitolo 41, dal verso 53. Suppongo l'abbiate trovato tutti, vero? Il Libro della Genesi è facile. Addio la gloria. I sette anni di abbondanza che c'erano stati nel paese d'Egitto finirono e cominciarono a venire i sette anni di carestia, come Giuseppe aveva detto. Ci fu carestia in tutti i paesi, ma in tutto il paese d'Egitto c'era del pane. Poi la carestia si estese a tutto il paese d'Egitto e il popolo gridò al faraone per avere del pane. Il faraone disse a tutti gli egiziani, andate da Giuseppe e fate quello che vi dirà. La carestia era su tutta la superficie del paese e Giuseppe aprì tutti i depositi e vendette grano agli egiziani. La carestia si aggravò nel paese d'Egitto. Da tutti i paesi venivano in Egitto, da Giuseppe, per comprare grano, perché la carestia era grave su tutta la terra. Fin qui la parola di Dio. Non so se avete notato, ma abbiamo letto un testo che da alcuni giorni, da alcune settimane, Dio ha aperto davanti a noi. E il versetto 53, in qualche modo, comincia con una precisazione. I sette anni di abbondanza che c'erano stati nel paese d'Egitto finirono... Mi state seguendo tutti? Il versetto 53 inizia con una precisazione. I sette anni di abbondanza che c'erano stati nel paese d'Egitto finirono e cominciarono a venire i sette anni di carestia. E mi verrebbe da dire che le cose belle finiscono presto, ma non è di questo che vorrei parlarvi stasera. Il versetto 53, in qualche modo, funge da cardine rispetto ai versetti che abbiamo meditato le domeniche scorse. È quello che Dio vuole dirci stasera. I sette anni di abbondanza finirono e cominciarono i sette anni di carestia. Quindi il versetto 53 funge da cardine e divide due tempi. Quindi possiamo affermare stasera di trovarci in un tempo di transizione, di passaggio. Da un tempo, quello dell'abbondanza, ad un altro tempo, quello della carestia. L'abbondanza è finita. Sta per cominciare la carestia. Quindi, ripeto, si parla di un passaggio di tempo dall'abbondanza alla carestia. Lo voglio sottolineare. Dall'abbondanza alla carestia. Solitamente ci piace presentare e ci piace parlare di Dio come colui il quale ci permette di passare dalla carestia all'abbondanza. E in verità il nostro Dio è il Dio che ci fa passare dalla carestia all'abbondanza. Il nostro Dio è colui il quale ci fa passare dalle tenebre alla luce. Che dite, fratelli? Non è forse vero. Dio ci ha portati dalla morte alla vita. Il Signore ci ha preso dal fango del peccato e ci ha fatti sedere, dice la Bibbia, con i principi del suo popolo. C'è qualcuno stasera che vuole dare gloria a Dio per questo? Questo è il nostro Dio. E' l'idio che ci porta appunto dalla carestia all'abbondanza. Tuttavia il nostro Dio non è solo potente da fare quanto abbiamo appena accennato. Perché dire che Dio è colui il quale ci porta dalla carestia all'abbondanza soltanto significherebbe limitarlo. Invece il nostro Dio è illimitato. Dire che Dio è capace di portarci dalla carestia all'abbondanza è in qualche modo predicare il 50% del Vangelo. Perché l'altro 50% del Vangelo testimonia che il nostro Dio comunque è Dio anche quando ci fa passare dall'abbondanza alla carestia. E se io vi dicessi stasera che il nostro Dio è colui che ci fa passare dalla carestia all'abbondanza ci sarebbe un gloria a Dio. E io mi chiedo, ci sarebbe lo stesso un gloria a Dio se io vi dico stasera per parola di Dio che il nostro Dio è colui che ci fa passare dall'abbondanza alla carestia. Gli vogliamo dare lo stesso lodo e gloria stasera? Dio è degno della nostra gloria anche sotto questo punto di vista. Il nostro Dio è anche potente da fare il contrario dall'abbondanza alla carestia. Riguardo a Israele è scritto Io l'attrarrò e la condurrò nel deserto e lì parlerò al suo cuore. Io leggo nella Bibbia questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto nel mio nome scacceranno i demoni parleranno in lingue nuove sentite prenderanno in mano i serpenti e anche se berranno qualche veleno non ne avranno alcun male imporranno le mani agli infermi ed essi guariranno Ma io leggo nella Bibbia anche il contrario Allora il Signore mandò tra il popolo dei serpenti velenosi i quali mordevano la gente e gran numero di israeliti morirono Leggo nella Bibbia quando i principi dei filistei i cananei gli sidoni gli vei insorsero contro Israele Israele gridò al Signore e il Signore li liberò Ma leggo nella Bibbia è anche il contrario Ecco io sto per suscitare i caldei popolo crudele e impetuoso che si impadronirà di Israele Mi starei seguendo? Dio è colui che ci fa passare dalla carestia all'abbondanza ma il nostro Dio è anche colui che permette alle volte il farci passare dall'abbondanza alla carestia Ma torniamo al nostro testo anzi prima di tornarci posso leggervi un altro versetto Tu dice Giona Tu mi hai gettato nell'abisso nel cuore del mare Posso farvi una domanda Chi ha dato ordine al pesce di ingoiare Giona? Dio Quindi anche Giona passa dall'abbondanza alla carestia Alla carestia E Giona dirà Tu mi hai gettato nell'abisso nel cuore del mare La corrente mi ha circondato Io dicevo sono cacciato lontano dal Signore Allora fratelli adesso possiamo tornare al nostro testo un attimino per ricordare per ricordare alcune poche verità i sette anni di abbondanza finirono e cominciarono a venire i sette anni di carestia come Giuseppe aveva detto e qui c'è la prima verità sì perché passare dall'abbondanza alla carestia non è una sorpresa per i credenti dovrebbe essere qualcosa che già il Signore ci ha detto perché a noi Dio ha detto nel mondo avrete tribolazioni ma fatevi animo io ho vinto il mondo il Signore ce l'ha detto così come Giuseppe aveva annunciato che ci sarebbe stata l'abbondanza ma poi la carestia così pure a noi Gesù ci ha detto che sarebbe stato con noi tutti i giorni e questa è abbondanza ma pure a noi Gesù ci ha detto vi maltratteranno sarete soli perseguitati o maltrattati a causa del mio nome Dio ci ha avvisati e stasera Dio in qualche modo ci vuole avvisare che si può passare dall'abbondanza alla carestia e questo non deve stonarci questo non deve renderci confusi fratello voi mi perdonate io voglio essere molto schietto stasera il fratello che ha pregato ha detto Signore donagli franchezza state pregando che Dio me la dia ma fratelli il nostro Dio è Dio quando ci libera ma il nostro Dio rimane Dio anche quando permette la carestia e nella carestia non vogliamo essere confusi costernati come se non avessimo mai conosciuto il Signore come se Dio fosse l'idio dell'abbondanza soltanto no è anche l'idio della carestia è l'idio della salute ma è anche l'idio che permette la malattia è l'idio della vita ma è anche l'idio che alle volte toglie e porta con sé o no quanti cari nella chiesa di Prizzi il Signore ha raccolto tra le sue braccia e se le è portati in paradiso a riposarsi perché questo è il nostro Dio fratelli è l'idio dell'abbondanza ma è anche l'idio della carestia e nessuno di noi rimanga confuso dinanzi a questa verità ci sono fratelli e sorelle che rimangono fedeli a Dio nell'abbondanza ma si perdono nella carestia c'è qualcuno stasera insieme a me che vuole chiedere a Dio Signore aiutami a rimanerti fedele nella carestia Gesù ci ha avvisati così come Giuseppe aveva detto la carestia non fu come dire un evento improvvisato che li ha spiazzati no no era tutto calcolato Gesù ce l'ha detto che nel mondo avremmo avuto tribolazioni prove difficoltà però ci ha detto e lo vedremo tra poco che con lui possiamo superare pure la carestia che dite Dio ci ha avvisati la carestia sopraggiunse così come Giuseppe aveva detto ma non soltanto spesso nella carestia ripeto ci confondiamo al capitolo 42 io leggo Giacobbe seppe che c'era del grano in Egitto e allora disse ai suoi figli perché state a guardarvi l'uno all'altro perché spesso la carestia fratelli confonde la chiesa del Signore i figli di Giacobbe si guardavano l'uno all'altro e che si fa adesso dove si va dov'è il cibo Giacobbe dice ma perché vi state a guardare l'uno all'altro correte in Egitto perché lì c'è il pane spesso nelle mie nelle vostre carestie rimaniamo confusi come se non avessimo mai conosciuto il Signore invece noi sappiamo stasera che Dio è per noi un rifugio ed una forza è un aiuto sempre pronto nelle difficoltà e spesso si grida alle persone sbagliate infatti ci fu una grande carestia in tutto il paese e la gente disse al faraone e scritto poi la carestia si è stese su tutto il paese d'Egitto e il popolo gridò al faraone per avere del pane ma il faraone disse andate da Giuseppe e fate tutto quello che vi dirà spesso nella carestia non soltanto ci confondiamo ma spesso nella carestia ci rivolgiamo pure alle persone sbagliate come se l'aiuto dovesse venire dagli uomini il nostro aiuto viene dal Signore e io quando ho letto queste parole del faraone andate da Giuseppe fate tutto quello che vi dirà ho pensato a Maria vi ricordate a Maria alle nozze di cane quando gli dissero l'acqua il vino è finito e Gesù dirà andate da Lui e fate tutto quello che vi dirà Signore stasera nelle nostre carestie vogliamo continuare a rivolgerci al Signore è vero Dio l'ha permessa è vero Dio ci ha avvisato ma gloria a Dio perché nella carestia Giuseppe è con noi mi aspettavo un amen nella nostra carestia Giuseppe è con noi fratelli nella carestia Giuseppe non cambiò città rimase in Egitto nella carestia la visse insieme agli egiziani e insieme agli ebrei quando verranno a prendere il pane perché nelle nostre carestie Dio non ci abbandona rimane con noi uso un'espressione per farmi capire Dio la vive con noi simpatizza con le nostre sofferenze e si prende cura della mia e della vostra vita Dio ci ha avvisati spesso la carestia ci confonde si grida alle persone sbagliate ma è scritto andate da Giuseppe e fate quello che vi dirà Giuseppe era il punto di riferimento era la speranza per tutti gli egiziani e come vedremo per tutto il popolo di Dio Signore grazie perché Gesù rimane ancora la nostra speranza e se egli permette che qualcuno tra noi passi dall'abbondanza alla carestia nella carestia non siamo confusi perché sappiamo in chi abbiamo creduto nella carestia non grideremo alle persone sbagliate ma grideremo alla persona giusta nella carestia il nostro Dio la vivrà con noi ci soccorrerà ci supporterà ci sosterrà sarà al nostro fianco ed è scritto che Giuseppe aprì tutti i depositi gloria al Signore perché nella carestia Dio ci apre tutti i depositi quanti credono che è meglio stare con Dio nella carestia che nell'abbondanza senza Dio perché pure la carestia con Dio diventa bella perché Dio aprì e Giuseppe aprì tutti i depositi e la gente venne a prendere del grano per sé e per la propria famiglia Dio nella carestia ci apre porte ed esperienze straordinarie l'altro giorno mi ha chiamato un fratello di Agrigento siamo in diretta quindi non vi dico il nome non vi dico neanche la comunità però sono circa otto mesi che questo fratello con sua moglie si trova in Nord Italia per una malattia del figlio e l'altro giorno mi ha chiamato per salutarmi perché mentre ascoltavo una predicazione il Signore lo ha battezzato con lo Spirito Santo e così per raccontarmelo mi ha chiamato e mi ha detto fratello Galtagirone credimi in questi otto mesi io ho visto più Dio in questi otto mesi che in trent'anni di fede siamo passati dall'abbondanza alla carestia ma nella carestia Dio è stato con noi un'infezione ha preso il midollo spinale del bambino quindi ha dovuto subire un trapianto tante altre reazioni ma adesso sono qui che danno l'oda e gloria al Signore nella carestia Dio gli ha aperto le porte è stato con loro li ha sostenuti li ha aiutati perché fratelli si può passare dall'abbondanza alla carestia Dio ci ha avvisati ma ci ha detto che se rivolgiamo lo sguardo a Lui si può superare la carestia alla grande e ne possiamo uscire vittoriosi e benedetti andate da Giuseppe e fate quello che vi dirà Giuseppe apri tutti i depositi e poi è scritto da tutti i paesi vennero in Egitto da Giuseppe Signore stasera aiutaci perché l'opera grande compiuta in noi possa raggiungere anche altri paesi e tutti possono venire dal nostro Giuseppe che è fonte di speranza e fonte d'aiuto per l'anima nostra fratelli la verità del Vangelo è questa che Dio è colui che ci fa passare dalla carestia all'abbondanza ma alle volte gli permette il contrario dall'abbondanza alla carestia ma anche quando questo si presenta e si verifica il nostro Dio rimane Dio benedetto in eterno chiediamo il capo preghiamo insieme gloria al Signore gloria a Dio dalla carestia all'abbondanza questa è un'opera di Dio ma anche dall'abbondanza alla carestia è opera di Dio gloria al Signore egli rimane il nostro Dio anche quando opera il contrario e noi vogliamo rimanere fedeli anche quando egli permette la difficoltà e permette una via stretta e angusta perché sappiamo che anche in questa triste vicenda che egli permetterà nella sua sovrana volontà noi vedremo la gloria di Dio nella nostra vita gloria al Signore Dio ci ha avvisati nel mondo avremo tribolazioni vivremo momenti difficili ma Dio sarebbe stato con noi anche nei giorni difficili sorella fratello non ti scoraggiare non ti confondere non fare come i figli di Giuseppe che stavano lì a guardarsi l'uno all'altro non sapendo che fare il nostro aiuto rimane il Signore sorella la tua difficoltà è davanti a Dio Dio è esperto Dio è capace di intervenire in maniera sovrannaturale lo so la carestia confonde la carestia svia la carestia disorienta ma noi vogliamo rimanere cristiani e credenti anche nella carestia anche quando viene a mancare qualcosa Dio ci aiuta a rimanere lucidi a non perdere la fede l'orientamento a non perdere di vista il traguardo il nostro Dio non ci ha detto che non avremmo avuto mai problemi no anzi ci ha detto chi mi vuol seguire prenda ogni di la sua croce e mi segua gli affanni le tribolazioni le angustie sono tutte preventivate Dio ce l'ha detto non ci ha preso in giro noi siamo scesi negli acque battesimali ve lo ricordate e ci è stato chiesto fratello vuoi servire Dio fino alla fine dei tuoi giorni e noi abbiamo detto amen ti ricordi il giorno in cui sei stato battezzato gli hai dichiarato fedeltà anche nel tempo della carestia nella carestia rivolgiti a Gesù non perdere di vista la persona giusta grida la persona giusta la speranza è Gesù mentre ogni occhio è chiuso ogni capo è chino io stasera vorrei rivolgere una parola specifica a chi ha pensato che la carestia che sta vivendo è sinonimo di abbandono di Dio io voglio dirti stasera con tutto il mio cuore che ti stai sbagliando Dio non ti ha abbandonato perché il nostro Dio è colui che dalla carestia ci porta nell'abbondanza ma alle volte ci porta dall'abbondanza alla carestia per provare la nostra fede per esaminare la qualità della nostra esperienza per fortificarci per renderci migliori perché tutto torni alla sua lode gloria e al nostro vantaggio vogliamo alzarci tutti in piedi e ringraziare Dio stasera gloria al Signore cantiamo insieme questo canto e poi qualcuno di voi innalzi una preghiera di ringraziamento al Signore gloria a Dio